Il spirito dell'hard rock è questo, è proprio un barbacello Distrugge i bingieri Distrugge Le persone a cui loro hanno dedicato questo tributo Sfasciavano la roba mentre suonavano, spaccavano le casse, davano fuoco addirittura Avevano i soldi per ricoprarse Quindi lo spirito giusto è lo spirito dell'hard rock è distruttivo Vai saluta Ciao mondo Ho perso Youtube Metti su Youtube